Allora raga, oggi siamo in libera perché vedete che siamo in casa e voglio provare il nuovo operatore che mi son comprato cioè l'Azion Oh man Headshot 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 man D'ora in poi vi porterò video in classificata con i miei amici Sempre su Rainbow Vabbè sì, se no in classificata con i cazzo non vuoi essere E' il cazzo cam di me Fatemi rompere un attimo anche questa cam Allora vediamo una cosa Stanno giù Ma perché? Un punto di sordente Nemico in vista, piano terra Noi E' il cazzo cammino Oh, no, 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 no. Mamma mia che smirata. Ok, è legata. Ok. 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 volta che l'uso venimi a prendere in mezzo alla panetta dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio ricarica ricarico mancano 10 secondi restano 5 secondi il nemico ha individuato il contenitore di biorischio brucerà parecchio preparo gli uomini scudi in arrivo e Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Non so che ha preso il drone in mano. Non so che il primo nemico è rimasto. È in una zona controllata dal nemico. Mi chiamavo Rick e non muore mai. Però ho fatto anche io la smirata. Però non muore mai. Facciamo decidere al gioco. Visto che hanno messo anche queste opzioni di far decidere al gioco. Vediamo chi ci prende. Però non posso nemmeno cliccare sul capitolo per cambiare l'arm. Speriamo uno buono in un blitz montagna così. Cioè, non lo so. Ecco. L'ho detto. L'ho detto. L'ho chiamato. Trovate la posizione del contenitore di Dio Rizio. No, da. Ma che cancro sei? Dimmi. Che cancro sei da prendere mute? Che cancro sei da prendere mute? No, non si prende i anni 90 al minute. Cioè, se lo vi è più mute. C'è un minuto nell'asco. Contenitore di più rischio individuato, raggiungetelo. Se riescono a non morire subito mi fanno un piacere perché sono montagne. Bene, hanno ucciso lei. Qui il Maveric ha provato a bucare, ora. Che beccolo. Ma che stupido. Ma vada. Sì, sì, sì Se ne era completamente dimenticato di me dietro Potevo anche accoltellarlo Non è che voglio riprendere l'Easyon Questa mimetica me l'ha andata Quando ho aperto i cosi di... Dell'estate Scusami una mimetica estiva Tra un po' arriva l'inverno Non ci siamo, non ci siamo Non ci siamo Difendete la stanza Dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio E' uno di questi Ricarico l'arma Il nemico ha individuato il contenitore di biorischio Ancora dieci Restano cinque secondi Il nemico ha individuato il contenitore di biorischio Merda Guarda quel coglione di merda Tossine pronte Devo ricaricare Un fumogero in arrivo Lancio una gara Un nuovo caricatore Zio regge Tutto quello però Non ci siamo Eric, Eric is on the window bro, on the window, what the fuck are you looking at? Raffanculo non è morto Difensori neutralizzati Mi attacco fissone di sfida al gioco Ok, maverick, ma po' che 7 kill anche libera A caso Thermite, guardate che cavolo, che carino La mia Mi metti qua su Thermite Col cuoricino Thermite è uno dei miei operatori preferiti Cioè Cioè Il mio preferito diciamo Però adesso non so se la compete con l'Esel Perché l'Esel è forte Eeeh, l'amico è Eeeh, l'amico è Eeeh, l'amico è No, sì, l'amico è Eeeh, via Qualcosa che più ce n'è meglio è E' un silenzio che può diventare musica Perchè era diventato grande Guardatela Guardatela Quanto è bella Quanto è bella È rosa It's paying Tax brutal in fondo Ma perchè l'hai ucciso L'hai mandato pure a terra Perchè Ciao clash 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 Cap Cap Ok futuro Sudi Certi Decidi Esco Cap Che ci sono qui ottenete il contenitore ma chi attività nemica ultimo nemico rimasto un po' smirata ho anche il cibi di termite guardate la mia mimetica quanto è bella quanto sei bella quanto si bella va bene vi volevo far vedere un po' le esone il mio nuovo operatore e per questo video è tutto bella noobis player